Benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli incontri a Dianne Cronos. Oggi abbiamo qui Monica D'Aluce Gambino, appena nominata ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa italiana, che ringraziamo per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi. Con la quale vorrei subito toccare un tema di strettissima attualità, perché è imminente la conclusione dell'operazione Mare Nostrum, la quale voi avete dato un contributo rilevante, operazione che sarà sostituita da questa Frontex Plus o Triton, questa operazione europea, che però sarà una cosa un po' diversa, anche sotto il profilo del soccorso dei migranti. Volevo chiederle dall'altro la sua esperienza sul campo. Voi non temete che ci possa essere un allentamento del dispositivo di soccorso ai migranti? In fondo Mare Nostrum ha consentito di salvare 150.000 persone in un anno. Indubbiamente la nostra esperienza in un anno di Mare Nostrum, perché noi fin dall'inizio siamo stati imbarcati su questa nave della Marina, abbiamo avuto veramente la realtà sotto gli occhi, proprio quelli del recupero di migliaia e migliaia di profughi che arrivavano, di migranti che arrivavano in tutte le condizioni possibili, uomini, donne, bambini. Che oggi con la nuova attuazione di intervento venga meno il soccorso, non lo crederò mai, perché non sarà mai possibile che noi non andremo a soccorrere chi ha bisogno. Il timore che si ripetano le stragi nel mare che poi dia dell'origine alla missione. E come no, chi non può ricordare Lampedusa e anche la spiaggia di Pozzallo. Ma immagino che quello che sarà organizzato in ambito della Marina e quindi sulle navi delle Forze Armate sicuramente vedrà al fianco anche le infermiere volontarie. E quindi noi trasferiremo il nostro intervento dove la Marina Militare chiederà il nostro ausilio. Quindi si può già dire che farete parte anche di questa nuova missione? Se la Marina Militare ne farà parte, noi saremo al loro fianco. La vostra assistenza in Italia ma anche all'estero, attività che vi porta a contatto spesso con situazioni anche delicate sotto il profilo sanitario. Adesso in queste settimane il mondo si interroga sull'emergenza ebola. Volevo chiedere voi come vi state preparando, che contributo potete dare voi? Noi siamo abituati ad andare in prima linea laddove esistono le guerre ma anche dove esistono le grandi epidemie. Lo abbiamo fatto già da 106 anni e è una delle nostre peculiarità di intervento. In questo caso specifico il presidente della Croce Rossa italiana, l'Avvocato Rocca, ha già allertato il corpo delle infermiere volontarie perché la Federazione Internazionale, quindi Ginevra, ha già chiesto all'Italia un proprio contributo. E quindi noi abbiamo già pronto più di 50 infermiere volontarie, già proprio in prima linea con una partenza disponibile in due ore di allertamento. Con un preavviso di due ore. Assolutamente sì. Anche loro protette da un protocollo vaccinale, come è giusto che siano, e che tutti i nostri volontari vanno ad eseguire prima di essere immessi in qualunque tipo di intervento di operazione, sia in Italia che all'estero, e anche per riprendere il riferimento di prima sulle nostre operazioni in Mare Nostrum, anche in quel caso tutti i nostri volontari hanno un protocollo protettivo prima dell'immissione in servizio. Quindi pronta di intervenire in qualsiasi parte del mondo, in Africa, dovunque necessario. Assolutamente sì. Beh, sulla scorta, sulla base della vostra attività, che è sempre stata questa, alla fine anche in giro per il mondo, nei teatri operativi, sempre al fianco dei militari italiani in missione, no? Sempre al fianco delle forze armate in missione, sempre al fianco della Croce Rossa italiana in missione. Noi su questo siamo sempre state, e il corpo delle infermiere volontarie, le Croce Rossine, sono tutte state sempre conosciute per coloro che andavano in prima linea. Donne che si formano con un percorso lungo, specifico, di arte e di studio proprio sul campo. Duemila ore di formazione, due anni di percorso da allieve e poi finalmente in operazione. In operazione, quell'operazione che ci ha visto, come lei ricordava, veramente in tutti i teatri. Ma il più eclatante negli ultimi tempi è stato sì l'Afghanistan, ma l'Iraq. L'Iraq ha visto ben due posizionamenti delle infermiere volontarie, una inquadrata all'interno del ruolo delle forze armate e quindi di Nassiria, dove siamo state per tutto il periodo di intervento. Nassiria è stato per noi veramente un impegno forte, ma altrettanto eravamo a Baghdad, nell'ospedale della Croce Rossa italiana, con altrettante 20 infermiere volontarie, senza soluzione di conti. Quindi le missioni all'estero le avete vissute da vicino. Le volevo chiedere, siccome è stato pagato anche un tributo di sangue alto, comprese voi, ricordiamo Maria Cristina Luinetti, uccisa in Somalia più di vent'anni fa, nel 1993, ma anche i militari italiani che sono morti in Afghanistan e in Iraq. Dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, è valsa la pena, Balcani, Afghanistan e Iraq, è valsa la pena di fare queste missioni all'estero? Guardi, dal punto di vista politico io ne resto molto distaccata, come ne resta distaccata la Croce Rossa sempre. Dal punto di vista umano, che è il nostro ruolo, la nostra mission, le posso dire che attraverso questo genere di missioni e di interventi noi possiamo raggiungere il punto focale del bisognoso. In Afghanistan, in Iraq, in Afghanistan abbiamo fatto un percorso di formazione alle donne afghane negli ospedali, che è stato per noi di un arricchimento ancora più di quello che abbiamo dato loro. In Iraq abbiamo lavorato accanto a quelle donne, a quei bambini, perché eravamo a loro destinati soprattutto, anche e soprattutto grazie alla possibilità che le forze armate ci davano di arrivare sul punto e sul pezzo, come si può dire, il più avanti possibile. Libano, altrettanto sono tornata dal Libano, saranno sei mesi fa, anche lì abbiamo fatto un percorso di ricognizione, di studio, di necessità sociali, dove i nostri militari italiani potrebbero aiutarci a sviluppare un percorso e un progetto di aiuto ai bisognosi proprio in quell'area dove ora stanno operando. Quindi dal punto di vista politico e di interesse nazionale si vedrà, però dal punto di vista umano è valsa la pena. Dal punto di vista umano, ovunque ci portino, noi veniamo soltanto a dare e questo ci arricchisce e ne vale veramente la pena. Il vostro è un ente in movimento, adesso è imminente la privatizzazione, se non sbaglio, prevista dal decreto Balduzzi, no? È vero. E come vi avvicinate voi a questo passaggio che immagino è epocale? Voi siete preoccupati, vuole, non so, rivolgere una raccomandazione al governo, alle istituzioni affinché non si perda al patrimonio, ecco, umano e professionale della Croce Rosso Italiana? Beh, io voglio essere certa che il governo non possa dimenticare questo patrimonio di uomini e donne a disposizione, perché sarebbe veramente una grossa perdita e una riduzione proprio anche dell'Italia, perché veramente noi siamo da sempre, la Croce Rosso Italiana è l'istituzione dell'aiuto, del volontariato, senza nulla togliere per carità a tutte quelle altre organizzazioni efficientissime, ma, perdonatemi, la capillarità della Croce Rossa nel mondo e quindi della capacità di interazione anche dell'Italia con il mondo attraverso la Croce Rossa è assolutamente unica. Al governo io chiedo che questo decreto, questa legge 178, che oggi, così come ci porta una privatizzazione totale al termine di questo anno 2014, possa essere rivisitata e chiedo fortemente che possa essere rivisionata attraverso un colloquio tra chi opera e chi leggifera e di questo veramente ne siamo noi tutti di Croce Rossa convinti e a tutta, credo di potermi prendere l'onere di appellare e di fare questo appello a nome di tutta la Croce Rossa. Ma temete di diventare qualcos'altro, meno efficace magari sul campo? No, noi vogliamo diventare molto più efficaci e per diventare più efficaci dobbiamo avere la possibilità che gli strumenti che abbiamo siano utilizzabili come noi necessitiamo. Quindi una salvaguardia di un'area di personale, la salvaguardia delle attività, la salvaguardia della tradizione della Croce Rossa, così come l'opinione pubblica ci vede, ci conosce e ci conosce. Quindi veramente io sono convinta che i ministri possano e sicuramente anche il presidente del Consiglio voglia riconsiderare questa cosa perché sarebbe veramente un peccato mortale. Riconsiderarla in che senso? Non procedere più alla privatizzazione o farla in maniera diversa? No, farla in una maniera diversa, magari lasciare l'istituzione centralizzata in aspetto pubblicistico, quindi pubblica in modo che possa interagire ed essere alle dipendenze non di dipendenza politica ma la dipendenza del bisognoso che nello Stato viene identificata appunto dal governo e dalle situazioni attuali. Chiarissimo. Un altro aspetto di grande attualità che comunque vi coinvolge per la vostra esperienza sul campo è quello del terrorismo internazionale. Prima il Qaeda, i talebani, adesso il califato islamico. Voi operate in zone interessate dal terrorismo islamico. Voi appunto come vivete questa situazione? Voi operate spesso con enti tipo la Mezzaluna Rossa. Avete mai avuto problemi sul posto, timori particolari? La situazione attuale vi preoccupa? Devo dirle che sarebbe sciocco dire che non ci preoccupa. Diciamo che noi l'abbiamo attenzionata. L'attenzioniamo nel senso che non temiamo assolutamente che i nostri volontari possano avere timore nell'andare o nel non andare. Invece devo dire che dobbiamo dire grazie anche alla nostra interazione con la Mezzaluna Rossa. Noi lavoriamo con immensa serenità con loro e non abbiamo timori. Il volontario che lavora sui territori, è ovvio che abbia anche lui quel dubbio di incertezza di quello che può succedere. Ma le dico anche la verità. Ma perché? Il rischio che c'è a casa nostra in Italia è lo stesso. E forse in missione lo vivi ancora meno senza volver dire essere incosciente. Non meno angoscia. Ecco, però senza dire incosciente. Quindi non c'è stato un contraccolpo sugli arruolamenti? Uso un termine militare perché voi siete molto vicini al mondo militare. Come vanno gli arruolamenti nella Croce Rossa? Beh, le infermiere volontarie assolutamente hanno avuto un trend in crescita insospettabile e anche forse inimmaginabile. Anche quando negli ultimi cinque anni, grazie a un decreto ministeriale, abbiamo modificato il nostro piano di studi. Sempre perché volevamo adeguarlo sempre più alle necessità delle professionalità richieste. Quindi con il grandissimo supporto del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, è stato rivisitato il nostro percorso formativo, addirittura quasi rattoppiando il monte orario. Eppure noi oggi, negli ultimi cinque anni, le posso dire che noi diplomiamo, cioè facciamo diventare infermiere volontari, più di 800 persone l'anno. Il che vuol dire che hanno studiato per due anni, sono rimaste attaccate alla nostra istituzione, che non siamo assolutamente tenere nella formazione. Proprio perché è un volontariato e pretendiamo che siano assolutamente il più professionali nell'eseguire appunto la nostra operazione, che è quella infermieristica. La nostra missione. Lei è freschissima di nomi dal vertice del corpo dell'infermiere volontaria. Su quali direttive imposterà la sua azione? C'è un obiettivo che lei vorrebbe raggiungere nel corso di questo mandato? Guardi, il mio sogno glielo rivelo. Glielo rivelo è quello di individuare un punto, focalizzare un'attività sociale che diventi il punto di riferimento per tutta la comunità. Quindi che ci sia una sacca di vulnerabili che noi potremmo andare a coprire e ad aiutare e che per tutta le persone identifichino nelle croce rossine l'aiuto per quell'aspetto. Cioè rendervi ancora più riconosciuti. Ancora più riconosciuti. Sa oggi esiste tanto volontariato, molto preparato, molto specializzato, settorializzato. Noi da tradizione copriamo a 360 gradi le richieste del nostro aiuto. Credo che anche in questo noi dobbiamo trovare un punto di modernità senza tralasciare il resto, ma trovare un motivo di rifugio per chi ha bisogno e sapere che può contare sulla croce rossina. Bene, questa era la nostra ultima domanda. Ringraziamo Monica Dioluce Gambino e vi diamo appuntamento al prossimo incontro di Anne Cronos. Grazie, grazie a tutti.